Il regno delle monere Ma cosa vuol dire monere? La parola monere deriva dal greco antico e significa semplice. Le monere o batteri sono microscopici esseri viventi, unicellulari, procarioti, cioè cellule prive di nucleo. Pensate che i batteri sono gli organismi più antichi e diffusi sul pianeta Terra e sono un po' più grandi dei virus. Ma attenzione, i virus non sono considerati organismi viventi, non appartengono al regno degli esseri viventi, ma sono agenti infettivi. Ma i batteri dove vivono? Il nostro corpo ospita un numero consistente di batteri, ma sono quelli buoni e pensate che vivono quasi ovunque. Eh sì, abbiamo batteri nella bocca, ecco perché bisogna lavarsi i denti. Abbiamo batteri sulla pelle, ed ecco perché bisogna farsi la doccia ogni tanto. Abbiamo batteri nell'intestino, nelle orecchie, nel naso e persino nello stomaco. Ma questi nello stomaco sono proprio quelli buoni, che favoriscono la digestione degli alimenti di cui ci nutriamo. E favoriscono l'integrità della nostra mucosa intestinale e la fermentazione del cibo ingerito, come quelli che compongono la cosiddetta flora batterica intestinale. Altri invece possono essere nocivi e causarci malattie. Ma quali sono i batteri pericolosi per l'uomo? Mi è venuta un'idea. Prova a scoprirlo tu, giocando con Learning Apps e facendo una piccola ricerca in internet con i tuoi compagni e con la maestra. Grazie a tutti.